Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i Suoi discepoli sulla barca, ma i Suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i Suoi discepoli salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafanno alla ricerca di Gesù, lo trovarono di là dal mare e gli dissero, «Rabbè, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro «In verità, in verità, io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro «Questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi costituisce l'introduzione al discorso sul pane della vita che Gesù pronunziò nella sinagoga di Cafanno e che leggeremo interamente durante questa settimana. Dopo la moltiplicazione dei panni Gesù concedò la folla che cercava di proclamarlo re e si ritirò sul monte a pregare. Poiché durante la notte camminando sull'acqua si unì ai suoi discepoli che si dirigevano in barca a Cafanno, si unì a loro e raggiunse la città di Cafanno. Però l'entusiasmo popolare per il prodigio dei panni moltiplicati non si spense tanto facilmente. Fattosi giorno cominciarono le ricerche di Gesù su per il monte. Il popolo aveva notato la sera che sulla riva vi era una sola barca e che in essa erano entrati solo gli apostoli. Gesù dunque, pensavano tutti, doveva essere in quei dintorni. Essendo riusciti e vanno le ricerche, ridiscesero alla riva e, montati sulle barche, si avviarono verso Cafarnao, dove supposero fosse andato a loro insaputa. E di fatti lo trovarono là e sorpresi gli domandarono, Maestro, quanto sei venuto qua? Supponendo che fosse stato per un altro miracolo. Gesù non risponde alla loro domanda, ma comincia a commentare il miracolo della moltiplicazione dei panni, mettendo in risalto, non senza una certa amarezza, per non essere stato capito, l'intenzione nascosta di quelli che lo seguono. Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei panni e vi siete saziati. E voleva dire, Voi non mi cercate per i miracoli, vedendo in essi un segno chiaro della mia missione, ma perché vedete in essi solo un mezzo per avere dei benefici corporali. Gesù soffre per l'incomprensione della gente. Allo stesso modo, seguendo l'esempio di Gesù, il diacono Stefano vedrà ricompensato il suo apostolato a favore della gente con l'odio, la calunie e la prigione, come narra la prima lettura. La storia del protomartire riproduce la passione e la morte di Gesù, tanto nel processo che nel martirio del diacono. Come sempre accade con le masse, la moltitudine nutrita da Gesù fino alla sazietà con i cinque panni e i due pesci si ferma al fatto materiale e non arriva al messaggio come la samaritana che desiderava l'acqua del pozzo mentre Gesù le parlava di un'altra acqua. La gente vuole un Dio al suo uso e consumo, un Dio che serve i nostri interessi e le nostre necessità, un Dio commerciale che combia miracoli e prodige a seconde le nostre richieste. Questa è una fede puramente superstiziosa che vuole chiudere il Signore nei limiti delle nostre povere esigenze umane. colpisce profondamente notare che nonostante l'ottusità dei Suoi ascoltatori, Gesù li conduce con pazienza alla vera fede. Con i Suoi miracoli vuole aiutare la gente a comprendere la Sua persona, il Suo mistero e la Sua missione. Nella ricerca di pane materiale Gesù vede l'opportunità per proclamare qualcosa di molto più grande. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Partendo dal pane che hanno mangiato con gusto, li aiuta a credere che Egli è il pane vero, cioè il pane della vita. Come Gesù conduceva la gente con pazienza e senso pedagogico alla fede in Lui, partendo da interessi puramente umani, così anche noi dovremmo aiutare i nostri fratelli giovani e adulti affinché si rendano conto che Gesù è la risposta di Dio a tutti i nostri desideri e valori. Cercare Gesù per motivi puramente umani può essere un buon punto di partenza. L'uomo di oggi cerca la felicità, la sicurezza e come la gente di Cafarno è piuttosto delusa perché cerca e non trova risposta alla domanda del significato della vita. hanno bisogno che qualcuno li aiuti. A volte hanno un concetto troppo povero della fede cristiana. Alcuni cercano Dio per i favori che si aspettano da Lui, altri solo per paura di castigli o per interesse. Se noi cristiani con la parola e le opere li aiutiamo, li evangelizziamo, possono arrivare a comprendere che la risposta si chiama Gesù e dal pane materiale potranno passare ad apprezzare il pane che è Cristo, il pane del suo corpo che Cristo ci dà. Quando la gente chiede a Gesù che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, egli risponde credere in Colui che ha mandato, che Dio ha mandato. Secondo i maestri della legge mosaica, le opere che erano gradite a Dio erano le preghiere, i digiuni, le lemosine, le decime, i riti e le purificazioni. Gesù corregge la prospettiva e chiarisce che l'opera che Dio gradisce è accettare il suo inviato. Credere nella persona di Gesù, il Messia, sul quale il Padre ha messo il sigillo della divinità. Egli ci insegna nel Vangelo non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Soprattutto cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Il resto vi sarà dato in sovrappiù. Tra gli affanni e le preoccupazioni di ogni giorno, fermiamoci un momento e chiediamoci che cosa cerchiamo noi nella vita o a che cosa mirano la nostra vita e il nostro lavoro. chiediamo alla Madonna di immergerci nel compito essenziale della sequela di Cristo, avidi del suo pane che sazia definitivamente la nostra fame di speranza e d'amore, di silenzio e di contemplazione. Sielo dato di Gesù Cristo.